E' stata inaugurata la nuova sede della scuola secondaria di primo grado San Francesco in via Lorenzo Giusso nel rione Amicizia, uno dei quartieri popolari di Napoli, un nucleo di abitazioni operaie dove la compianta vicesindaca Mia Filippone in breve tempo riuscì durante il suo mandato a riavviare i lavori di ristrutturazione dell'edificio. Una struttura più volte vandalizzata e depredata che oggi è stata finalmente restituita alle famiglie e ai ragazzi. Aprire una scuola oppure riaprire una scuola è sempre un successo perché noi offriamo un territorio quello di cui ha bisogno. Recentemente abbiamo avuto un incontro con le scuole che hanno ricevuto il finanziamento ministeriale proprio per contrastare la dispersione, l'abbandono e anche le disuguaglianze territoriali perché questo è un elemento importante. Un lavoro sinergico a più mani tra enti, uffici e istituzioni dal comune alla terza municipalità. Sì, infatti noi stiamo creando i presupposti affinché anche le palestre siano utilizzate di pomeriggio proprio per contrastare la dispersione scolastica. In questo territorio non era presente una scuola secondaria di primo grado, gli alunni all'esito della scuola primaria erano costretti ad una sorta di dispersione logistica che sappiamo poteva essere la premessa anche di una dispersione formativa. Siamo riusciti ad ottenere il risanamento di questi locali che per più di un decennio erano rimasti abbandonati e grazie all'interessamento di una persona che oggi non c'è più ma che abbiamo voglia di ricordare.